Gentili telespettatori, benvenuti con il nostro telegiornale regionale. In apertura andiamo a Fiume Veneto, dove c'è qualcuno che non si accontenta di coltivare un orto normale, ma preferisce coltivare dei prodotti insoliti. La Guardia di Finanza ha sequestrato 5 kg di marijuana coltivati proprio all'interno di un'abitazione. Il tipico lezzo della marijuana impregnava l'androne delle scale del palazzo a Fiume Veneto. Seguendo nella scia, i finanziari del nucleo di polizia tributaria di Pordenone sono arrivate ad un appartamento di un cittadino italiano di 41 anni e febbi le sue iniziali. Da tempo però le fiamme gialle erano sulle sue tracce, ma i finanzieri non si sarebbero mai aspettati di trovare, oltre quella porta, una sofisticata serra casalinga per la produzione di marijuana. Complessivamente sono stati sequestrati durante la perquisizione domiciliare più di 5 kg di droga, oltre all'attrezzatura specifica per la coltivazione delle piante di cannabis. Il 41enne, assistito dall'avvocato Silvia Sanzogni, è stato arrestato per le ipotesi di reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Ora è in carcere a Pordenone, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. L'uomo si è dichiarato, tuttavia, un semplice consumatore. Le indagini prendono le mosse degli ambienti giovanili legati al consumo di droghe leggere. Si era sparsa la voce, infatti, dell'esistenza di un produttore locale di marijuana di ottima qualità. Leggenda metropolitana o notizia fondata. Per verificarlo, i finanzieri si sono introdotti in tali ambienti sotto copertura, riuscendo a raccogliere informazioni ed indizi. A poco a poco, l'indagine ha preso forma, finché non si è concretizzata nella perquisizione dell'appartamento a fiume Veneto. Già dalle scale, invase dall'odore di marijuana, gli uomini del fiamme gialle hanno capito di aver colto nel segno. Dentro l'appartamento, poi, la stupefacente è scoperta. Un'intera stanza dell'alloggio era stata trasformata in un vero e proprio vivaio di piante di cannabis. Grazie ad una serie di studiati accorgimenti, infatti, nel locale erano state riprodotte alla perfezione le particolari condizioni di temperatura, irrigazione e umidità necessarie per la coltivazione ottimale delle piante di canapa indiana, dalle cui infiorescenze vengono ricavate a shish e marijuana. Si tratta, infatti, di specie vegetali piuttosto delicate. Le pareti e il soffitto della stanza erano stati foderati di materiale riflettente ed un sistema ad hoc di illuminazione artificiale stimolava la crescita delle piante. Il locale era stato dotato anche di sistema di riscaldamento con termostati automatici e di un apparato di ventilazione e di aspirazione dell'aria, in grado di assicurare la fioritura della cannabis. In una stanza attiva, invece, i militari dell'Agua e le di Finanza hanno trovato altre piante già recise e messe ad essiccare. In un contenitore a chiusura stagno, invece, erano costruite svariate infiorescenze essiccate. Sono state sequestrate anche bustine di semi di cannabis da piantare, nonché vario materiale specifico per la coltivazione. In tutto, sono stati sequestrati 5.1 kg di marijuana. Andiamo ora a Pordenone, parliamo del duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza. Prima dell'omicidio ci sono state chiamate a raffica tra Giosuè Ruotolo e la fidanzata e poi lui è andato al Palasport. Una serie, appunto, ininterrotta di telefonate tra Giosuè Ruotolo e la fidanzata ha preceduto l'agguato nel parcheggio del Palasport. Perché si sono sentiti così spesso? Che tenore avevano quelle conversazioni? Hanno mai litigato? Ma soprattutto, che cosa ha spinto la giovane di Somma Vesuviana a mandare quell'ambiguo messaggio a Giosuè? Hai fatto qualcosa che non mi hai detto? Il messaggio è stato scoperto facendo le copie forensi dei telefonini cellulari dei due giovani. Pertanto, in un momento successivo al giorno in cui la fidanzata di Ruotolo è stata sentita verbale nella caserma dei carabinieri di Pordenone. Quel pomeriggio del 17 marzo, tra le 16 e le 19 e 15, tra Pordenone e Somma Vesuviana, la linea telefonica era bollente, come la definiscono gli inquirenti. E dopo l'ultimo contatto alle 19 e 15, Ruotolo è uscito in tutta e con la sua Audi A3 ha raggiunto il Palasport. Restiamo a Pordenone, parliamo di un'aggressione. Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita ai giardini di Pordenone. Il tranquillo parco cittadino all'incrocio fra Viale Marconi e Via Gozzi, frequentato spesso dai ragazzi del centro studi durante la pausa pranzo e all'uscita delle scuole, si è trasformato mercoledì pomeriggio in uno scenario da incubo per una studentessa di 15 anni che frequenta uno degli istituti cittadini. Proprio qui l'adolescente è rimasta vittima di una brutale aggressione a sfondo sessuale da parte di uno sconosciuto, in pieno giorno, all'ombra delle profumate magnolie che circondano i giardini pubblici. La ragazzina era seduta su una panchina con una sua compagna di classe e stava mangiando un panino dopo le lezioni, quando un uomo sulla trentina che stava evidentemente osservando le due amiche le ha fatto cenno di avvicinarsi. Senza sospettare minimamente le torbide intenzioni dello sconosciuto, la quindicenne si è accostata alla panchina e ha risposto docilmente alle domande che avevano probabilmente l'intento di tranquillizzarla, per poi ritornare a fianco dell'amica. A quel punto però l'idiglio del parco si è infrato. Lo sconosciuto ha richiamato nuovamente l'attenzione della quindicenne che si è avvicinata per la seconda volta. L'uomo però la ghermita all'improvviso e l'ha trascinata dietro un'alta siepe contro il tronco di un albero, tappandole la bocca con una mano per impedirle di gridare e chiedere aiuto mentre dava corso alla violenza sessuale, tentando di baciarla e di toccarla, arrivando anche a denudarsi parzialmente. La ragazzina, sotto shock e in lacrime, ha cercato a più riprese di liberarsi in vano dalla morsa dell'aggressore. Nel frattempo l'amica che non riusciva a capire cosa stesse accadendo al di là della siepe, visto il protrassi dell'assenza della compagna di classe, ha chiesto se fosse tutto a posto. A rispondere però è stata la voce dello sconosciuto. Approfittando di questo istante di distrazione, l'adolescente è riuscita a divincolarsi dalla violenta presa dell'uomo e a rifudearsi nell'abbraccio della compagna di classe. L'aggressore, invece, è scappato via, facendo perdere le sue tracce. Fra le lacrime, la vittima dell'avvenza sessuale si è confidata con l'amica e poi anche con alcuni professori della scuola. Del caso è stata informata anche la dirigenza scolastica. I familiari della quidicenne hanno quindi sporto denuncia, ipotesi di reato e violenza sessuale aggravata. Subito sono scattate le indagini della Polizia di Stato, ancora in corso, per cercare di individuare il responsabile dell'aggressione. Il gravissimo episodio è l'attenzione della procura dei minorenni presso il Tribunale di Trieste e dell'autorità giudiziaria di Pordenone con il PM Monica Carraturo. Ci spostiamo ora a Villotta di Chions, dove c'è stato un grande successo all'incontro con Don Marco Pozza sul tema Impariamo a volare, la forza dirompente di un sogno. Un tema che è molto sentito per la lotta al bullismo. Giovedì 3 dicembre alle 9 e mezza, presso il Palazzetto dello Sport di Villotta di Chions, l'Istituto Comprensivo di Chions, scuola secondaria di primo grado di Chions e Pravis Dominis con oltre 300 ragazzi e ragazze, ha partecipato all'incontro con Don Marco Pozza, conosciuto come Don Spritz. Il tema Impariamo a volare, la forza dirompente di un sogno, è parte integrante del progetto Amici del Cuore basato sulla prevenzione del bullismo. Il progetto Dove sono io, dove inizia l'altro. Impariamo a volare vuole essere un contenitore nel quale sono state inserite alcune offerte al fine di immarginare eventuali disagi ed aiutare indistintamente i ragazzi e le ragazze ad avere maggiore consapevolezza di sé e autostima. L'obiettivo è quello di favorire la crescita degli studenti in un ambiente scolastico sereno ed accogliente e dare anche la possibilità di conoscere e frequentare contesti positivi, oltre a quelli scolastici. È fatica, sapete, per Don Marco. Entrare in casa domani mattina e scoprire che c'è un uomo che per 315 giorni ha tenuto nascosto un bambino dentro ad una tana, dentro ad una caverna, per riuscire a portarsi a casa 500.000 euro dal papà, per liberarlo dal sequestro. Non è facile per me. Sapete da dove nasce la mia passione di rimanerci dentro? E a Villanova di San Daniele del Friuli hanno parlato i nostri microfoni Panariti e CEO dell'azienda Lima Corporate Orthopedic. Dottor Ferrari, amministratore delegato di Lima, un'azienda che in Friuli Venezia Giulia trasmette grande leadership tecnologica e grande positività al territorio. Qual è il vostro segreto? È un'azienda italiana, esportiamo il made in Italy e quindi l'italianità nel mondo, ma lo facciamo grazie a una fortissima leadership tecnologica. Lima sviluppa delle soluzioni per il mercato dell'ortopedia ed è in grado di esportare queste soluzioni in giro per il mondo attraverso la propria rete commerciale che conta di 23 società in giro per il mondo. La forza di Lima, come dicevo prima, è la tecnologia, la qualità, un prodotto estremamente innovativo che trova grande soddisfazione sui mercati grazie all'eccellenza relativa allo sviluppo dei prodotti. Devo dire che da questo punto di vista la regione Friuli Venezia Giulia ci ha aiutato molto nel corso di questi ultimi 15 anni con dei finanziamenti ad hoc che ci hanno consentito di continuare a sviluppare i nostri asset tecnologici. Quasi decuplicato il fatturato nell'arco degli ultimi 15 anni, quali sono i prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono continuare questo percorso di crescita e di creazione di valore. Le do un paio di numeri. Nel corso degli ultimi tre anni siamo riusciti ad incrementare anche grazie ad alcune acquisizioni mirate il nostro fatturato del 50% e l'occupazione a livello del gruppo del 25% con una redditività di impresa molto significativa. Assessore Panariti, la regione ha voluto visitare un'azienda efficiente, un'azienda efficace, un'azienda che dona al territorio comunque positività. Che tipo di sostegno sta dando la regione e quali tipo di obiettivi si pone? Per quanto riguarda la ricerca, la regione è intervenuta proprio per quanto riguarda il finanziamento delle macchine che permettono la produzione di protesi a persone, fatte sulle persone per casi particolari. Credo che si tratti di un'azienda molto importante, un'azienda innovativa, capace di avere radici sul territorio e di guardare verso mercati globali. è importante anche perché ha manodopera di grande qualità, ci sono ingegneri, ci sono tecnici e quindi siamo interessati anche a lavorare insieme per quanto riguarda gli assegni di ricerca e dottorati e di far crescere l'occupazione, cosa che mi pare è stata appena affermata dall'amministratore delegato. Ci spostiamo ora a Buia, da incrocio regolato con un semaforo a rotonda. Sarà questo il nuovo volto dell'intersezione tra la strada provinciale Osovana e la strada provinciale Giuliese e nel 2016 appunto sarà pronta la rotonda. Da intersezione regolata da semaforo a rotonda. Sarà questo il nuovo volto dell'incrocio tra la SP Osovana e la SP Iuliense in comune di Buia. Un'opera molto attesa dalla comunità locale, stante anche la crescente intensità del traffico proprio all'ingresso del paese. A realizzarla sarà la provincia di Udine che l'ha calendarizzata per il 2016. A Palazzo Belgrado la comunicazione della realizzazione dell'intervento da parte del presidente Pietro Fontanini e del vice Franco Mattiussi al primo cittadino di Buia Stefano Bergania e all'assessore Alberto Guerra. 260.000 euro il quadro economico complessivo per la maggior parte coperto dalla provincia di Udine. La quota rimanente sarà a carico del comune. Siamo molto soddisfatti per la prossima realizzazione di quest'opera, ha commentato il sindaco Bergania, che senza dubbio contribuirà a snellire il traffico, rendere la circolazione più sicura e a ridurre l'incidenza dell'inquinamento, evitando la sosta al semaforo. Per il comune del 2016 questa sarà l'opera viabilistica più importante. Le due amministrazioni sottoscriveranno un accordo di collaborazione in cui verranno formalizzate le caratteristiche tecniche, procedurali e progettuali. I tempi di realizzazione saranno brevi, garantisce il vice Mattiussi, in quanto non è necessaria la procedura espropriativa, visto che il sedime è di nostra proprietà. Oltre alla rotonda, la provincia di Udine riserverà un occhio di riguardo anche per pedoni e ciclisti, tant'è che, aggiunge il vice Mattiussi, sarà data continuità ai percorsi ciclopedonali esistenti lungo la Iuliense, verso Tonzolano. La rotonda avrà un diametro esterno sull'ordine dei 40 metri e sarà dotata di impianto di illuminazione pubblica. Verranno eseguite anche opere integrative e funzionale al restyling dell'incrocio. Ci spostiamo ora a Udine e parliamo di beni culturali, perché sono stati assegnati 42 mila euro proprio per i lavori di restauro. La provincia di Udine ha assegnato contributi pari e complessivi 42 mila euro per interventi di restauro di beni culturali minori. Sono otto le opere che, grazie al contributo dell'amministrazione provinciale, potranno essere rimesse a nuovo. Scopo del contributo, infatti, è dare nuova vita a decori e oggetti di valore custoditi negli uffici religiosi e in quelli civili di carattere monumentale, come dipinti, pale d'altare, statue, lapidi. Sono piccoli tesori che impreziosiscono il nostro patrimonio storico ed artistico, commenta l'assessore Musto. Sono opere di grande valore per le comunità locali, non sempre visibili dal grande pubblico e per le loro caratteristiche storiche, culturali e religiose rappresentano un'originale opportunità di conoscenza del territorio e di valorizzazione in chiave culturale e turistica. Tra le richieste di contributo è stata assegnata priorità alle istanze di restauro, supportate da relazioni particolareggiate, presentate da restauratori o ditte specializzate, le istanze di interventi per il completamento dei lavori di recupero, di particolare rilevanza in corso di esecuzione, le istanze di interventi su opere d'arte quali affreschi, icone votive, altari e statue ligne poste all'esterno e all'interno di edifici facilmente fruibili e accessibili al pubblico. Gentili telespettatori, vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione del Telegiornale Regionale e vi auguro un buon proseguimento di serata, ma soprattutto un buon weekend.